Il terziario donna si fa sentire, insomma le donne si distinguono e proprio da un ultimo report è venuto fuori qualcosa di molto positivo. Qual è la situazione in provincia di Teramo? Le imprese femminili sono ancora una fetta importantissima delle imprese nella provincia e soprattutto hanno un taglio ed una vocazione per il sociale che è innegabilmente unico. È stata fatta un'indagine nella quale è risultato un coinvolgimento nelle tematiche sociali del territorio molto forte da parte delle imprenditrici. Oltre ad avere delle imprese attenti all'ambiente, quindi al rispetto dell'ambiente, attento all'uso di fonti energetiche alternative, attento all'integrazione talvolta anche delle disabilità, delle professionalità, dei disabili, hanno una visione del ruolo della scuola, degli enti di formazione del territorio del tutto peculiare. Infatti tutto il mondo dell'impresa femminile è fortemente convinto che la formazione a tutti i livelli, quindi dalla scuola primaria alla formazione universitaria, sia un passaggio imprescindibile nel percorso che qualsiasi imprenditrice o imprenditore fa verso il successo. Ecco, ma da un punto di vista economico le donne come vivono questo periodo in provincia di Teramo, dopo tutti i noti fatti che ben conosciamo purtroppo ormai, e soprattutto anche in vista di questa ripresa economica che sembrerebbe esserci seppur leggera? Allora, sicuramente le donne hanno un carattere molto forte e combattivo e questo è un aspetto anche genetico, dovuto, anche qui ci sono degli studi portati avanti da alcuni psicologi sullo sviluppo dei determinati lobby del cervello, quindi sono creative e questa creatività si esprime anche nell'affrontare i problemi con soluzioni alternative e questa creatività è venuta fuori. È venuta fuori anche l'ospitalità, molto spesso delle imprese che hanno avuto problemi si sono appoggiate ad altre imprese colleghe e questo è un altro elemento importantissimo perché purtroppo, secondo me, l'Abruzzo è stato fortemente penalizzato in alcuni settori dall'incapacità di alcune attività di associarsi e di stare insieme, come invece è successo purtroppo molto spesso nelle vicine marche. Quindi, come dire, le risorse femminili si sono messe fortemente in gioco. È innegabile che le difficoltà che sono di tutte le imprese non, come dire, salvano le imprese femminili, i problemi sono uguali per un'impresa che sia essa femminile o maschile. I settori, naturalmente, più rilevanti nell'imprenditoria femminile, che sono quelli dei servizi, aiutano, come dire, a non delocalizzare. Naturalmente il servizio, perché diciamo sempre che l'impresa di servizi, servizio in genere, è una risorsa importantissima in tessuto economico, perché è una di quelle attività che non può essere delocalizzabile, come ad esempio la produzione commerciale. Quindi è una ricchezza che rimane nel tessuto del territorio. E quindi questo elemento, ancora una volta, ha costituito una risorsa in un momento così difficile. Al contempo, sottolineiamo come per le imprenditrici femminili, la mancanza di adeguata assistenza agli anziani e alla fascia dell'infanzia costituisca ancora, come per tutte le donne che lavorano, un problema rilevantissimo.